Ciao a tutti e benvenuti all'Isola di Carta. Oggi recensione del numero 739 di Zagor intitolato L'inarrestabile. Questo albo di Zagor segue il numero 738, questo qua Massagro, ed era diviso in due parti. In quest'ultimo albo, appunto il 739, finisce questa storia, una storia normale, niente di fenomenale da parte di Jacopo Rauk, che è il soggettista e lo sceneggiatore di questa storia, mentre i disegni di Luigi Coppola sono veramente molto belli e la copertina, come al solito, di Alessandro Piccinelli è molto bella, molto evocativa, sembra la locandina di un film, ma andiamo a parlare della trama. Allora, nel vecchio numero si vedeva che questo personaggio qua, ecco questo qua dietro con la maschera, era evaso appunto dal manicomio e era ossessionato dal ricordo di una donna, era follemente innamorato di una certa Nora Kirk. Questo pazzo folle che si chiama Rufus Dowler, giunge in un villaggio a Warren Town, seminando morti lungo le sue strade e qui Zagor, insieme appunto allo sceriffo dell'uovo che si chiama appunto Bill Perron, gli tendono una trappola per cercare di catturarlo, cercando di far nascondere Nora e suo padre in una caverna, nascosta, che è appunto in una gola, ma nella storia entrano prima alcuni indiani, ma soprattutto una donna spietata, mamma Jane, insieme alla sua famiglia. Come andrà a finire? Ve lo lascio scoprire se acquisterete quest'albero. Allora, riflessioni da fare. La prima cosa è che Rufus mi ha ricordato moltissimo un mostro di non aprite quella porta, quello che veniva chiamato faccia di cuoio perché è la stessa identica caricatura. Quindi c'è questa associazione, o meglio c'è questa idea attraverso questa associazione di idee in cui si pensa che il mostro è lui il vero cattivo della saga, in realtà lo è abbastanza. Però io ho notato che la vera protagonista di tutta questa storia è invece mamma Jane, una donna terribile, cattivissima, molto crudele, padre padrina o padrona di una famiglia, come lo sono certe donne appunto in determinati contesti, in determinate famiglie. intanto vi faccio vedere i disegni di Coppola che sono fantastici, i disegni di Coppola sono molto dettagliati e mi sono piaciuti molto. E dicevo che la vera protagonista più secondo me di Rufus è certamente lei, è mamma Jane con la sua famiglia di contrabbandieri di whisky, i Crow, faccio vedere i disegni, che cercava una vendetta terribile su Zagor e devo dire che, come spesso accade nel caso delle donne, quando ci si mettono sono di una cattiveria memorabile, senza confini e secondo me, lo ripeto ancora una volta, è molto più crudele mamma Jane di Rufus Dowler. Rufus Dowler, in fin dei conti mi ricorda appunto, come dicevo prima, faccia di cuoio, è fondamentalmente un buono, ha vissuto un drama familiare che lo ha reso quello che è, una specie di personaggio appunto folle, che è stato appunto anche in vanicomio, però ha dei sentimenti molto puri, molto puliti. Ha questo amore verso questa donna verso Nora Kirk e è una sottodrama molto bella questa storia di questo amore impossibile tra questa donna e Rufus, che secondo me ha impreziosito e arricchito le pagine di Zagor. Sono storie che, come dicevo prima, non rientrano certamente tra quelle memorabili o indimenticabili di Zagor. Io personalmente amo moltissimo lo Zagor, le storie di Zagor, per esempio quelle con i vampiri, oppure quelle ad esempio horror, oppure quelle con Hellingen. Ecco, storie diciamo un po' più gotiche, un po' più appunto orrorifiche e queste qua invece sono più di un'ambientazione un po' classica, risentono certamente di atmosfere tipiche magari anche degli anni 70. Io ero un ragazzino e queste storie di Zagor non mi sembrano molto diverse appunto da quelle che leggevo io tempo addietro. Comunque, se amate appunto lo Zagor classico, tipico, giustiziere, amante dei valori, come lo è lui, che combatte lotta fino alla fine senza mai arrendersi, acquistate questo volumo inarrestabile, il numero 739 di Zagor. Prossimamente uscirà il primo dicembre il numero 740 che ci parla del passato di Rocas. Faccio vedere la copertina, le copertine di Piccinelli sono qualcosa di veramente spettacolare, guardate anche questa. Io Zagor lo compro però ecco dico sempre che di prendere soltanto i numeri più interessanti per poi finisce che li prendo tutti quanti. Vorrei fermarmi qua perché come vi dicevo questa storia mi ha entusiasmato ma soltanto fino a un certo punto, vedremo se riuscirò a resistere alla tentazione. Invece una pubblicazione che credo che mi piacerà molto sono questi racconti di Darkwood in cui il prossimo uscirà il 22 di novembre intitolato La macchina del tempo e qui si parla dell'incontro fra Zagor e un viaggiatore del tempo. Dice un crepaccio che cela l'orrore, un ragazzo indiano alla ricerca del suo spirito guida, un villaggio dove regna la follia, mistero e avventura vi attendono nei nuovi racconti di Darkwood. Ecco io credo che queste storie invece di Zagor basate più sull'orrore, sulla metafisica insomma e sul mistero sono quelle che attirino di più secondo me anche se si vogliono catturare dei nuovi lettori per un personaggio che fondamentalmente non è mai stato rinnovato. C'è stato qualche tentativo di rinnovamento specialmente ultimamente in alcuni numeri, io non ho fatto la recensione ma l'ho letto quando c'era questo amore di Zagor che ha avuto una storia d'amore con Jane, però è stato un tentativo che secondo me è abbastanza naufragato quasi subito e non credo che avrà un seguito anche perché Zagor è il paladino di Darkwood e se avesse una moglie e magari dei figli difficilmente potrebbe continuare ad avere questo ruolo. Quindi se è stato un tentativo di ammodernamento certamente non credo che sia andato a buon fine. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi saluto all'Isola di Carta, ciao a tutti e ciao da Massimo.